buongiorno sono marco astore di bg log e oggi ho il piacere di presentarvi una nuova postazione per l'imballaggio realizzata per un nostro nuovo cliente del settore tessile una soluzione che consentirà due operatori di lavorare contemporaneamente velocizzando ancora di più rendendo ancora più efficiente la fase di imballaggio una postazione di lavoro assolutamente ergonomica infatti abbiamo previsto un piano di lavoro leggermente inclinato su cui andrà posizionata la tastiera così da agevolare l'operatore nella digitazione dei tasti e un supporto monitor regolabile così che l'operatore abbia nel suo campo di presa tutto il necessario in modo tale che possa completare il processo di evasione dell'ordine in modo efficiente ed ergonomico inoltre abbiamo previsto anche un ulteriore piano su cui verranno stoccati tutti i vari componenti necessari all'operatore per completare il processo di imballaggio quindi liberando il piano di lavoro potendo avere una soluzione pulita ben organizzata e intuitiva al di sotto del banco di lavori sono invece presenti cinque ripieni estraibili questo per rendere le operazioni di prelievo dei componenti ancora più ergonomiche infine per poter ospitare le due stampanti al di sopra della postazione di lavoro il nostro ufficio tecnico ha sviluppato una soluzione che consentirà all'operatore da un lato di proteggerla dalla polvere e dall'altro di poterla utilizzare agevolmente in modo ergonomico infatti il piano di lavoro scorrirà al di sopra di una rugliera e quando l'operatore avrà necessità di utilizzare la stampante potrà far scorrere il piano agevolmente ed una volta completata l'attività e la chiusura del processo di evasione dell'ordine andare a riporre il ripiano al di sotto del banco da lavoro completano la struttura sei supporti regolabili posizionati al di sopra del banco da lavoro e quattro supporti anch'essi regolabili posizionati invece al di sotto del piano su questi supporti verranno stoccati infatti i cartoni e gli imballi potendo quindi prelevarli e visualizzarli agevolmente migliorando tutto il processo di imballaggio e quindi di chiusura ed evasione dell'ordine quindi se state cercando delle soluzioni simili per l'imballo complete personalizzate dotate di un supporto monitor e un supporto inclinato per la tastiera visita il nostro sito www.bglog.it e contattaci bglog be clever and work better with smart tube system www.bglog.it Grazie a tutti